Fun numbers! L'abbiamo reso fiero di noi! Fiero? Bah! Sono orci stufo di cercare di compiacerlo! È impossibile! È un maledetto dannato buona nulla figlio di una scrofa, Cristo Santo! Giuro che un giorno lo ammazza! Incredibile! È impossibile! Che cos'è questo rumore? Sembra provenire dal tuo culo! Oh no! È l'anguis! Oh Cristo, sta per raggiungere la temperatura critica! Sta per esplodere! Niente è meglio di un gustoso Huggies! Bello soccoso! Con un pizzico di spezie aromatiche! Servirebbe solo un po' di whisky per mandarlo giù! Al pub, gente! Offro io! Mi avete salvato la vita, dopo tutto! Il minimo che possa fare è offrirvi un drink! E comunque voi chi siete? Una specie di gruppo di est europei... in topless... e effemminati... e bodybuilder? No! Siamo gli Scottish Ninja! Ehm... Oh... Merda! Che ore sono? Ehm... Quasi le otto! Perché? Oh no! Ma qual'è il suo problema? Ehm... Devo occuparmi di una cosa! Cosa? Anche tu! Non puoi lasciarmi qui da solo con questi due! Altro whisky! Ehm... Quando ha un attimo? Sul suo conto! Ehm... 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 La manifestazione dei tuoi mertosi sentimenti delicati! Ma si tratta di vendetta! Credevo che tu... fossi favorevole a tale azione! Beh... E' vero che adoro il sapore della dolce dolce vendetta! Ma sono passati centinaia di anni! Quindi non è un mio problema! Ne sei sicuro? Nell'arco di un millennio non sono mai stato abbastanza vicino da percepire la presenza del demone! Non fino a quando siamo venuti qui per la tua missione! Coincidenza? O destino? Proverò ad indagare! Ma non sarai il capitale di questa nave! Resterai sotto coperta! Mi hai capito? Se dipendesse da me non ti sveglieresti più! Proverò a tutti che staremo meglio senza di te! E quando quel giorno arriverà farai meglio a guardarti le spalle vecchiaccio! Perché ti darò la caccia! E non sarà piacevole! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! E ora passiamo in sala mappa rippa tu 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 pa estivi! Yeah! Allora io che sono selci tenevo a salutare Gabriele M! Ciao Gabriele! Quando vuoi vieni a sfidarmi nella mia arena! Ciao! Ciao! Io sono Freddy Krueger! E volevo salutare Driss Lana! Ciao Driss! Stai attenta! Vengo a prenderti! Ciao! Io sono All Might! E volevo salutare KreeGamer69! Ciao KreeGamer! PLUS ULTRA! Ciao! Io sono Hitler! E volevo salutare tutto il team di Dogon Wisdom! Ciao ragazzi!